buongiorno buongiorno dal dottor claudio saracino da benessere ipnosi soluzione l'ipnosi dcs vera e professionale ragazzi vera e professionale oggi parliamo di televisione tv e in senso lato con tutti i mass media social chi più ne ha più ne metta rispondendo anche ad una signora che mi dice no io non guardo la tv ma sono sempre col cellulare in mano bene la tv come ho detto in altri video non è altro che il cellulare fatto persona peggio il cellulare perché te lo porti a letto te lo porti al bagno eccetera eccetera tutto ciò che ti fa male nasce dalla tv che il terzo genitore il terzo genitore ma mentre la i genitori sono vittime di altre vittime bene la tv non è vittima di nessuno ok tu la prova del 9 se vuoi sentirti bene se magari hai ansia sei depresso sei depressa oppure hai paura varie sotto ogni forma eccetera eccetera prova a togliere di mezzo la tv prova a non vedere più la tv per una settimana 30 giorni e tu vedrai in te risplendere e accendersi la luce della felicità o almeno a neutralizzare tutto ciò che senti sembra quasi quasi una barzelletta io lo so perché magari nessuno ti ha detto quello che ti sto dicendo adesso ed è un po' controintuitivo se rifletti ma noi siamo ciò che guardiamo in tv lo so tu dici ma che sta dicendo sto tipo è vero noi siamo ciò che la tv ciò che vediamo in tv io ho conosciuto una signora la quale vedeva la trasmissione che parlava di casi rari di persone che si perdono nella società oppure un'altra che vedeva trasmissioni sui bambini il commercio di organi quant'altro e aveva paura anche del vicino di casa del pianerottolo quando usciva dal suo condominio dal suo appartamento ora ragazzi come fare perché c'è l'obiezione tipo ma io voglio essere informato voglio sapere cultura generale bla 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 bene la cultura generale la puoi avere lo stesso vedi una volta la notizia e poi togli la tv di mezzo togli film i programmi che ti trasmettono paura che ti ipnotizzano negativamente e magari metti un film che ti tiri su che ti sollevi il morale e non che te lo butti giù e anche per il tuo caro vale lo stesso ragionamento poi se sei pigro pigra non ce la fai perché magari è più forte di te vedere la tv puoi anche scaricarti un audio mp3 dcs che fa il caso tuo del tuo caro come no depressione no panico in qualsiasi parte del mondo in cui tu risiedi e rendere innocuo ciò che la tv ti inculca dalla mattina alla notte ok ragazzi io prima di essere un guru un professore un dottore in ipnosi dcs vera professionale sono stato uno che ha assorbito la tv l'ipnosi conformista e commerciale e tutte le cose positive e molto negative di ciò che la tv ci trasmette quindi ti posso garantire che come dico io e la prova del 9 se togli la tv di mezzo e veramente ce la fai con la forza di volontà tu ti senti meglio e sente meglio anche tuo figlio o tua figlia ok noi siamo ciò che vediamo in tv da quando mettiamo piede nella pancia della mamma tre mesi quando il cervello è formato fino alla morte questo è un altro paradigma che bisogna instillare dentro di noi per capire meglio perché siamo così e anche nel bene funziona così attenzione vuol dire soltanto nel male ma siccome viviamo in una società negativa ecco i risultati purtroppo e li puoi neutralizzare o da solo spegnendo la tv oppure con l'auto ipnosi o l'ipnosi dcs vera professionale fammi tutte le domande del caso stai attento a ciò che vedi in tv a ciò che vedono i tuoi figli in tv perché può essere il loro destino purtroppo ti risponderò gratis compatibilmente ai miei tempi e miei impegni visita il mio sito internet www.ipnologiassociati.com iscriviti a questo canale youtube benessere ipnosi soluzione di cese del dottor Claudio Saracino e fa share condividi con amici e parenti perché può essere quel kid quella molla che gli cambia la vita completamente visita anche la mia fanpage su facebook ipnosi avuto ipnosi del dottor Claudio Saracino e visi e seguimi anche su instagram e twitter benessere ipnosi soluzione di cese del dottor Claudio Saracino e ricordati sempre non credere a nessuna parola del sottoscritto ma fai 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 azione documentati e meravigliati come è successo a me tanti e tanti anni fa e come è successo a tante persone centinaia centinaia di persone nel mondo che ho aiutato con risultati wow 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 eppure qualcuno gli aveva detto devi convivere devi accettare non esiste nulla per te è impossibile eccetera 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 mai dire mai questa cosa che hai tra le due orecchie è una cosa potentissima che si chiama subcosciente un bacio e un abbraccio dal dottor Claudio Saracino e alla prossima